Ciao ragazzi, come state? Fatemi sapere cosa avete pensato in questa settimana di mia assenza, fondamentalmente, fatemelo sapere nei commenti perché non vorrei che qualcuno di voi si fosse magari contagiato con il gossip o qualche notizia, qualche roba sul calciomercato che fa perdere magari la testa al tifoso per preoccupazioni e paure varie. Mi raccomando, state saldi. Abbiamo finito la scorsa settimana, in realtà fino a una settimana fa, con una serie di video sempre più approfonditi e anche seguiti, con un ultimo video che ha fatto un bot incredibile, infatti vi ringrazio, mi fa molto piacere, in cui abbiamo parlato della possibilità di rimanere competitiva da parte dell'Inter pur riducendo i costi. Abbiamo fatto un po' di previsioni, un po' di cose, spero che alcune cose possano anche avverarsi, che secondo me sono molto verosimili. Mi sembra che sia stato anche molto capito, oltre che apprezzato dal punto di vista dei numeri, il video ed è una cosa che mi fa piacere perché purtroppo c'è ancora molta disinformazione o confusione su alcune cose. Cassa, liquidità, ammortamenti, bilancio, plusvalenze, smantellamento o rimodulazione, cioè veramente una confusione sulle parole, sul significato e sui ragionamenti che è importante. Parlo in generale nel web, qualcuno infatti ha espresso qualche dubbio da cui io capivo che non avesse capito bene alcune cose, però mi pare che la maggioranza abbia imbroccato una via importante di consapevolezza veramente interessante. Sono molto molto contento, orgoglioso di me e di voi di questa cosa. E adesso bisogna proseguire però, perché non è finita lì, bisogna andare avanti perché il percorso è lungo e quindi oggi parleremo di Zhang, della sua intervista, di cosa significa quello che ha detto, quindi il progetto Inter, quello che ha in mente per i prossimi anni, la situazione attuale, Conte, cosa è successo con Conte e poi il discorso plusvalenze. Quante è vero, non è vero, servono, non servono, questa roba è qui, per poi concludere anche su due paroline, magari su qualche rinnovo, qualche notiziolla di mercato che è venuta fuori e Conte che ha abbandonato il Real, abbandonato il Tottenham, insomma, una parolina vorrei dirla che lì. Vi ricordo che stasera poi partiremo anche con Twitch, quindi se avete ulteriori dettagli, curiosità, dubbi, sicuramente li affronteremo anche dalle 20.45 stasera Twitch in live, mi raccomando, segnatevelo. E adesso partiamo da Zhang. Il Zhangone cosa dice? Dice che l'obiettivo dell'Inter lo era già prima, ma da quest'anno ancora di più diventa un piano, un obiettivo che è di un Inter che tenga a medio e poi anche lungo termine. termine cosa significa? Perché poi ha quantificato questo medio e lungo termine, perché questa è una cosa bellissima, quando ci sono i numeri, poi c'è qualcuno che è imboccato da altri, mi offende perché i numeri, ecco, calcolatrice. In realtà, il bello dei numeri, accostandoli poi alle parole, è che ti danno una misura, i numeri sono una misura. Se uno dice medio termine, e cosa significa? 20 anni? 3 anni? 7 mesi? Non lo so. Se uno dice, lo vendo a tanto quello lì, quel giocatore lì, cosa vuol dire? 50? 90? 85? E non lo so. Quindi è facilmente raggirabile la parola. La parola è così. Ma quando hai i numeri, i numeri quantificano, misurano. E quindi quando dice medio termine, Zhang intende 3-5 anni. Quando dice lungo termine, significa una decina d'anni. Ecco, è già più interessante capire i numeri. Perché, per esempio, medio termine, per noi in Italia, per il tifoso italiano, significa 6 mesi. Lungo termine è un anno. Cioè, per dire, breve termine, per noi non è neanche domani, è ieri, perché siamo super avanti, siamo super mega frettolosi. Allora, quello che bisogna capire è questo. Che non è questione adesso di CM in Cina, in realtà, in Cina 5 anni. No, si chiama imprenditoria, si chiama visione aziendale. Funziona così. E ha detto che non è vero che noi volevamo vendere l'Inter, siamo stati vicinissimi per vendere l'Inter. Non era quello che cercavamo, cercavamo altro. E questa cosa mi fa molto piacere che l'abbia detta, perché, se vi ricordate, 7, 8, 6 mesi fa, dicembre, gennaio, forse ero l'unico, o tra i pochissimi, quantomeno, ma forse addirittura l'unico, almeno sul web, a dire, guardate che a me non torna sta cosa qua, che tutto un tratto vogliono accedere. Perché poi c'era qualcuno che era pronto. Ecco, avete visto che volevano cedere su Uning, non vedevano. Lui dice, in realtà io ero tuttubante, se vi ricordate. Secondo me, sì, ma potrebbe essere anche questa possibilità, ma secondo me la priorità, la prima volontà è quella di avere un socio di minoranza, o un'iniezione di capitale, un partner, qualcuno, mantenere l'Inter, superare con questi 6 mesi, 12 mesi di iniezione di un po' di capitale, il momento difficile e poi ritornare a crescere, ritornare a, diciamo, a sviluppare quel progetto che è iniziato dell'Inter e continuare a devolverlo. Questo era, e infatti così è stato, e sono molto contento di questo, perché finalmente c'è un progetto e non si va di anno in anno in base a quello che viene fuori, no? Poi ci possono essere difficoltà, in base alle difficoltà devi rimodulare e ricalibrare il piano. E vabbè, sono in dieta, visto che sono un po' in dieta, ve lo dico, se faccio lo sgarro, l'imprevisto, mangio 5 brioche oggi perché ho fame dei brioche, devo rimodulare la dieta e devo fare un pochino più di, non so, avete capito? Beh, su, siete bambini, quindi funziona così. Anche se sono cose semplici, in realtà bisogna spiegarle perché purtroppo quando si parla di calcio noi ci dimentichiamo di questi ragionamenti qua e diventiamo molto tifosi e ci dimentichiamo di cose semplicissime che diventano tutto un tratto difficili o impensabili. Quindi bisogna purtroppo ragionarci sopra. Così, ormai l'ho capito ed è così. Il tifoso è un po' un bambino, no? Da un punto di vista non solo negativa, a volte anche positiva perché c'è l'affetto, c'è la gioia, c'è questa cosa. Ma c'è anche un po' la mancanza di lucidità, di ragionamento a volte, no? Allora, un'altra cosa importante che è stata detta, è stata detta che fondamentalmente l'Inter ha dovuto cambiare un po' i piani. Perché? Perché l'anno scorso l'Inter ha deciso di mantenere Conte, comunque già in crisi l'anno scorso, è già complicato, no? Perché Conti, pandemia e tutto quanto. Abbiamo ottenuto Conte comunque, abbiamo stato andato avanti con lui, convinti, a parte del mister, convinti che la squadra fosse ottima e potessimo vincere. Infatti poi avevano anche acquistato a Kimi, hanno speso, comunque ancora nonostante avessimo difficoltà, abbiamo anche accontentato il mister con le sue richieste, Conte, Vidal, Collor, queste cose, riscatti, vari sensi per esempio, che era un diritto, no? C'era un gentleman, lo so, però insomma era anche quella una richiesta. E abbiamo accontentato il mister e siamo andati a vincere. Chiaramente bene perché si è vinto, da punto di vista anche del trofeo e tutto, malino perché quello che tirava un po' i soldini, cioè la Champions, è andata male ancora una volta, anzi peggio ancora di prima, perché prima almeno siamo usciti, però siamo andati in Europa League e tutto sommato abbiamo fatto benino lì e vabbè, siamo un po' salvati così. E invece quest'anno siamo usciti quarti neanche Europa League, quindi questa cosa non ci è voluta. E infatti questo è un po' il rischio, no? Di dire, eh vabbè ma investo ancora perché posso vincere. E se poi non vinci, o vinci a metà, o vinci una cosa, perdi l'altra e non è abbastanza, e poi ti tocca veramente, non hai chance, non hai possibilità, alternative ti tocca rimodulare. E così è stato perché Conte in Champions ha fallito. Si può dire fallito Conte, stessa frase, o qualcuno che è... Conte non fallisce mai! No, perché ci sono un po' le vedove adesso di Conte. Ci sono le vedove dei Conte, di tutti e due. Va bene, andiamo avanti. Allora, quindi questo è il punto. Però cosa ha detto Zhang? Che vuole mantenere l'Inter competitiva. Anche se adesso bisogna rimodularsi un po' su medio termine, bisogna cercare di avere la stabilità economica e tutto quanto, l'Inter deve rimanere competitiva. Anche perché ha spiegato che se tu non sei competitivo, non sei attrattivo per sponsor, per partner anche di soci, fondi che possono entrare, investire sull'Inter, eccetera, eccetera. Quindi questa è una rassicurazione, cioè questo è ancora una volta un... State tranquilli. Sì, c'è bisogno un po' di, purtroppo, fare un passettino indietro, ma un passettino non vuol dire 16 chilometri, vuol dire un passettino, un passo indietro, ma rimanendo sempre competitivi. E infatti l'obiettivo qual è, che ha detto Zhang, è di fare bene in Europa, in Champions, Europa, non Europa League, in Champions League, fare bene, fare meglio di quello che abbiamo fatto fin adesso, quindi vuol dire superare i gironi, ragazzi, pochi cazzi. E poi, ragazzi, pochi cazzi, questa mi è uscita bene. E soprattutto poi riconfermarsi in campionato, come minimo, come minimo, centrando in Europa Champions, cercando di lottare comunque per quello che è il titolo, ugualmente, ma senza l'obbligo di vincere, che è quello che ho spiegato qualche settimana fa, quindi vedete che... Cioè... Bene, non dico altro, avete capito. Quindi cosa molto importante. Sulle plusvalenze. Allora, spieghiamo questa cosa, perché c'è una confusione incredibile, incredibile. Sento costantemente, costantemente, confusione su questo aspetto. Cioè, ultimamente sento molti, sia sul web, sia anche giornalisti, che fanno veramente confusione, che dicono, no, no, l'Inter non ha bisogno di plusvalenze, no, non è un problema di plusvalenze. È un bisogno... O non c'è un bisogno, o è un bisogno... È un problema di costi, o sento anche... No, è un problema di liquidità. Tanta confusione. Tanta confusione. Io consiglio che do è, quando non si sa abbastanza, bisognerebbe stare in silenzio. Oppure, fare dei ragionamenti aperti, ma senza dire, è così, non è così. Se non si sa, bisogna stare in silenzio, non si fa solo confusione. Allora, ragazzi, è il problema di costi. Sì, ma i costi, non è che se tu riduci i costi entro il 30... Cosa puoi ridurre di costi entro il 30 giugno, che siamo già all'8 giugno? Gli stipendi li devi già dare, non è che adesso se vendi qualcuno non paghi più lo stipendio di tutto l'anno. Cioè, i costi, il fatto di ridurre i costi è per la prossima stagione ormai. Cosa c'entra i costi adesso? I costi sono per la prossima stagione. Quindi abbiamo già annichilito una cosa. Eh, no, bisogna vendere per la liquidità? La liquidità è già stata sistemata con il finanziamento. Cosa serve il finanziamento? Per sistemare il bilancio? Quella non è mica un aumento di capitale, è un finanziamento, è un prestito. Quindi, un prestito significa che lo fai per avere liquidità. Quindi è quello lo strumento per risolvere il discorso della cassa. Dei soldi liquidi in cassa per pagare le stipendi, il campo, i servizi, le cose. Quello è quello è lo strumento per la liquidità. Abbiamo già sistemato quel problema lì. A meno che, addirittura, non ci sia Zhang Suning che rinuncia nuovamente alla restituzione del prestito e lo trasforma in capitale, ma quella è una cosa che magari può succedere dopo. Perché, ricordo, che Suning ha investito tanti soldi nell'Inter in forma di dando prestiti all'Inter che poi non ha richiesto la restituzione. Quindi ha messo veramente soldi in questi anni. tanti, tanti, tanti centinaia di milioni per chi fosse ancora dubbioso. Comunque, quindi ha risolto anche il problema di liquidità. Quindi è chiaramente un discorso di plusvalenza. Quello che si può dire non è un discorso di plusvalenza per la UEFA perché il far play fino al momento è in stand-by perché ovvio, ragazzi, funziona così in tutte le cose anche a livello di politica economica, di macroeconomia. i patti di stabilità e tutto sono sospesi in casi di eccezionalità o di imprevisti. Non è che sono lì ecco hai avuto l'imprevisto ah ti punisco ancora di più non esiste quindi tranquilli far play attualmente è lasco è molto molto leggero è un po' in stand-by lo sappiamo. Quindi l'Inter perché fa plusvalenza? Per necessità di bilancio non di cassa non di riduzione di costi di bilancio cioè abbassare il deficit annuale fare meno 150 meno 120 meno 190 meno 80 tutti gli anni non è un bene perché tu accumuli un debito quindi poi sei costretto a fare nuovi finanziamenti nuovi mutui fidi quello che ti pare accordi e quando hai un'esposizione debitoria troppo grande rispetto a quello che è il tuo PIL il tuo fatturato i tuoi ricavi non sei più sostenibile o meglio non sei più credibile per quelli che sono increditori e quindi o ti aumentano a dismisura i tassi interesse nel caso degli stati si chiama spread praticamente oppure non ti riprestano più i soldi direttamente e quindi vai in bancarotta o fallisci o vendi e svendi tutto questo è il motivo è molto semplice quindi l'Inter semplicemente quest'anno non so quanto possa avere di deficit attualmente nessuno lo può sapere attualmente quello di quest'anno non quello di adesso facciamo finta che sia 120 sparo eh per dire un numero può essere 150 come può essere 90 non lo so facciamo che sia 120 cosa vuole fare l'Inter dire sarebbe meglio chiudere a un po' meglio dice meno 120 fare meno 50 sarebbe già una cosa diversa ok questo è il motivo e non c'è altro modo di farlo con la plusvalenza perché in questo motivo perché altri ricavi non li hai cos'altro puoi fare attualmente che ti dà un guadagno non un ricavo un guadagno a bilancio la plusvalenza plusvalenza adesso è un bel nome ma non è altro che valore aggiunto non è altro che quello che si chiama brutalmente guadagno cioè tu prendi come quando un'azienda fa una roba quella roba gli costa x tu la vendi a x più 30% hai 30% di plusvalenza è il margine è il famoso margine il calcio funziona in maniera leggermente diversa perché sono gli ammortamenti non è un bene non è un bene mobile ma è un bene immobile praticamente il giocatore tra virgolette no non è una cosa un po' più complicata però è questo il concetto è quello che tutte le piccole squadre fanno tutti gli anni perché non hanno i ricavi delle grandi del marketing del merchandising dei grandissimi tifosi della coppa UEFA Champions quello che volete quindi hanno dei costi più alti rispetto a quelli che sono i ricavi che non sono molto a parte i diritti tv e poche altro e quindi cosa fanno ogni volta per togliere quel deficit lì o andare addirittura in attivo vendono il giocatore x fanno la plusvalenzona gli basta una perché hanno fatturati piccoli e vanno in attivo oppure vanno o tolgono il deficit l'Inter attualmente quello fa è come se fosse una grande piccola attualmente l'Inter come tutte le altre grandi eh come se fossero delle grandi piccole perché hanno avuto brum una mannaia sui ricavi quindi i ricavi che di solito loro che sono i ricavi che che le facevano essere anche un po' grandi no perché l'Inter dallo stadio non prende quanto il crotone e quella roba lì si è tolta quindi è diventata un po' una piccola adesso la sto semplificando per farvi capire e quindi come fanno come le piccole vendono il giocatore e fanno la plusvalenza questo è il motivo è molto semplice che vi dice altre cose fa tanta confusione sia sul web che ce ne sono che non ho sentiti e anche giornalisti che purtroppo sono nel calcio con la flanella da 40 anni e parlano di opinionismo del calcio un po' di cose così ma non hanno ancora capito come funziona il calcio e la cosa principale del calcio oggi che sono aziende è capire 4 H perché vi seguito sono 4 H di come caspita funziona il calcio mercato l'acquisto la cessione cos'è una plusvalenza e come funziona un minimo di società è molto semplice ragazzi è così fine dei discorsi ora non è detto che l'Inter debba fare plusvalenza entro il 30 giugno perché potrebbe anche avere un grande deficit quest'anno però poi vende magari benissimo a luglio e agosto e facciamo un ottimo bilancio l'anno prossimo e quello che conta non è il bilancio di quest'anno in sé ma è la sostenibilità a medio e lungo termine quindi se quest'anno facciamo meno 100 e l'anno prossimo facciamo più 80 non è male il dubbio che mi viene sul fatto che forse sarebbe meglio fare per esempio un meno 50 quest'anno e fare un 0 l'anno prossimo più che fare grande deficit e grande attivo credo ma qui dovrei informarmi perché entriamo in un aspetto ancora più dettagliato più tecnico è che quando fai grandi attivi a livello fiscale non convenga molto quindi conviene di più fare meno 30 meno 10 che non fare meno 100 più 70 ecco ecco perché l'Inter vorrebbe vendere entro il 30 giugno un pezzo per abbassare il deficit quest'anno e non dover per forza fare un attivo smisurato l'anno prossimo che quando ci saranno magari anche ritorno degli stadi e tutto e quindi avere un regime fiscale ottimizzato e non che ti faccia buttare via soldi questo credo è credo questo dico credo perché non sono certo quindi dico credo io quando non so una cosa però credo che sia abbastanza così ecco perché abbiamo bisogno di fare la presidenza adesso ok è chiara sta cosa qua adesso tutti quelli che dicono altre cazzate ecco non ascoltatele più perché mi hanno rotti i coglioni fate quello che volete io dico così poi siete liberi di sentire quelli che volete però attenzione ecco che data la grande purtroppo disinformazione incompetenza su questi temi qua che abbiamo noi in Italia poi soprattutto tifosi che comunque non stanno attenti a queste cose è facilissimo purtroppo credere a dico il primo che capita ma quasi appena parla in maniera un po' più tranquilla e dice qualche termine subito si crede a quello che spiega così anche se c'è una confusione devastante attenzione attenzione mi raccomando mi raccomando allora urca video è tostino lunghetto vabbè spero che sia piacevole in un ugual modo andiamo avanti qua facciamo un po' di sintesi anzi tagliamo queste cose qua ne parleremo magari stasera voglio parlare di Conte che è stato abbandonato sia dal Real e dal Tottenham ragazzi faccio molto semplice molto stringato qua un mio commentino secondo me è si è alzato troppo la cresta è stato abbandonato per eccesso di pretese poteva accettare secondo me un rinnovo dall'Inter un po' più basso tranquillamente e avrebbe fatto risparmiare un po' all'Inter l'Inter avrebbe anche potuto ottenerlo e invece ha mollato e cosa ha mollato secondo me ci abbiamo perso noi sicuramente perché Conte rimane un buon ottimo tecnico ma ci ha perso anche lui questa volta mi dispiace dirlo e gli sta bene perché chi troppo vuole poi nulla stringe perché ci ha perso Conte perché ha mollato un progetto vincente l'Inter è un progetto vincente lo era lo è e lo sarà ancora seppur con dei ritocchi lo sarà ancora e con Conte a maggior ragione lo poteva essere ancora di più perché significa anche continuità terzo anno conosce il gruppo e tutto quanto poteva magari qualche giocatore in più essere ancora più convinto di rimanere e magari di decortarsi qualcosina eccetera eccetera e poteva rimanere il grosso del gruppo veramente a parte che rimane uguale però poteva rimanere conoscendosi già e quindi poteva fare bene secondo me poteva continuare a fare molto bene senza un mercato di acquisti onerosi e invece ha mollato ha mollato io credo che Conte sia un pavido come è un ottimo allenatore è anche un pavido è uno che non ha coraggio è uno che per vincere vuole sempre solo il di più del di più del di più ed è lecito non è sbagliato è lecito che siccome è un grande possa chiedere di tutto di più però sarebbe veramente questo sì esemplare eroico d'esempio positivo e aiutatemi a trovare voi termini onorevole dire posso chiedere il di più del di più mi accontento tra virgolette di molto perché comunque avrebbe molto senza chiedere l'ira di dio del molto e faccio vedere che posso continuare e vinco e vinco e vinco di nuovo e vinco di nuovo e mi confermo di nuovo quindi non solo vinco ma so anche confermarmi invece è scappato quindi mi dispiace le vedove di conte o anche dei conti per me dei conti non economici proprio dei due conti siamo siamo lì siamo lì a livello umano anche se poi si vendono molto bene uno in un modo l'uno nell'altro uno incensandosi l'altro vestendosi con il gel fatto bene l'altro invece c'è il parrucchino però insomma il valore umano è quella roba lì e per me valgono zero sotto questo punto di vista ecco almeno però conte allenatore è bravetto sul campo quell'altro risultati zero ma insomma lasciamo stare ma sono i fatti sapete che io i fatti guardo i dati guardo allora Young, D'Ambrao e Ranocchia possono rinnovare a cifre modeste è quello che ho sentito quindi io sono contento di questo c'è qualcuno che impazzisce no non facciamo rinnovare questi qua devono andare via ma in realtà ragazzi se Young vuole dimezzarsi lo stipendio pur di rimanere all'Inter fare magari l'ultimo anno della sua carriera ma per me va bene ha un stipendio non era molto alto prima se lo vuole dimezzare va benissimo è un giocatore che può giocare a destra a sinistra fare magari il quinto cambio non è niente male tenerselo lì visto che dovremmo fare un restyling e quindi avere qualcuno un po' di garanzia che tutto sommato un suo un po' lo fa che può fare a destra a sinistra non è malvagia come idea adesso cerchiamo di ragionare un po' con la testa Ranocchia conosce il gruppo è l'Inter da dieci anni è uomo spogliatoio ogni volta che entra fa bene aveva già un ingaggio modesto se lo vuole abbassare ancora di più se rinnova per me va bene la stessa cosa vale per D'Ambrosio che in realtà non lo vedrei perfetto ma se rinnova anche lui a cifre contenute anche ora più basse di quelle che prende adesso mi va bene uguale perché perché ragazzi non rinnovare a questi significa doverne acquistare degli altri e significa spendere e se spendi per questi ruoli secondari significa che poi non puoi metterci tutto quello che hai sul ruolo che ti manca vero cioè l'esterno di sinistra o il vice a chimi o quello che serve e ti tocca prendere giocatori di tara minore perché hai speso due di qua cinque là tre su tre giù su altri ruoli secondari che potevi già rimpiazzare con la Nokia e il D'Ambrosio questo è il senso bisogna sempre avere un'ottica a 360 non è che chi dice ma ma si va bene possono anche rinnovare questi è un perdente anzi secondo me chi dice ma si possono rinnovare queste è un intelligente ed è anche più vincente di quelli che non vorrebbero questi rinnovi perché perché è ambizioso e dice io non mi accontento di prendere solo di Marco a sinistra voglio prendere di Marco e voglio prendere anche un altro e possibilmente il più forte possibile possibile in relazione ai costi chi si può prendere forse per me vorrei Costice ok sono gozo perché ho fatto il nome di gozo ma gozo secondo te 30 milioni va bene fai i costi quello che ti pare era un esempio ecco quindi questo è essere vincenti ottimizzare il tutto per avere i più forti sul campo perché poi contano ragazzi quelli in campo se anche ti prendi Milenkovic sì ma tanto Skriniar De Vrij e Bastoni giocano Milenkovic gioca a briscola in panchina con quei tre centrali lì secondo me quindi invece prendere uno titolare a sinistra con qualche soldi in più perché hai risparmiato su Milenkovic questo ti rende più forte sul campo si gioca in 11 a calcio a 15 si gioca a rugby fantastico ma è rugby è un altro sport quindi bisogna capire i ragionamenti sono diversi bene ragazzi allora concludendo chi vuole sostenere quello che faccio lo sforzo che faccio la qualità che provo a metterci sempre senza mai cadere per questioni di massa o altre cose ecco io cerco sempre di mantenere alto il livello chi vuole sostenere sa che può fare sia le donazioni sia abbonarsi al canale se fate gli abbonamenti che quindi sono magari costanti non so sono pochi euro al mese ragazzi piuttosto di spendere 300 euro a forza di prendere la gazzetta dello sport o altri abbonamenti di altri canali che poi chiedete a me ma è vero ecco fate direttamente l'abbonamentino piccolo al canale ragazzi e avete accesso al gruppo telegram privato che non è quello generale ma è un gruppo specifico che trovate nei link nella scheda community dopo che siete abbonati e lì possiamo parlare tutto il giorno tutti i giorni sono molto disponibili sull'inter dettagli informazioni che volete dubbi ragionamenti eccetera ed è un modo per stare insieme ma anche per capire conoscere imparare perché alla fine si impara gli uni dagli altri parlando seriamente delle cose ecco quindi è un servizio che cerco di portare volentieri anche se occupa tempo perché sono ora al giorno ma insomma lo faccio molto volentieri mi diverto si parla sempre dell'inter quindi o di cose annesse quindi è un piacere con la massima qualità ragazzi vi saluto forza inter a presto stasera su twitch e i prossimi giorni sempre con nuovi video non appena avremo anche novità anche sul mercato faremo comunque aggiornamenti anche usando excel quando avremo aggiornamenti seri riproporremo sicuramente ragazzi vi saluto mi raccomando mi raccomando forza inter e state tranquilli e cercate di capire bene di imparare bene così da non essere vittime di disinformazioni varie ed eventuali da qualsiasi parte arrivino mi raccomando